partete in vantaggio a centropista Bahrain con all'interno Elusive Queen e a largo Bridge Royal Game i tre sono in linea davanti a Phytos lungo la corda Larvitar e a largo di tutti Miss Money Elusive Queen conquista lo steccato e ora conduce avendo nella scia Larvitar che sta superando all'interno Bahrain più a centropista Phytos con all'esterno Bridge Royal Game e a largo di tutti Miss Money siamo a 300 dal palo Elusive Queen allungata lo steccato sotto la minaccia di Larvitar Bahrain, Phytos e Miss Money siamo a 150 dal palo Elusive Queen allo steccato si sta difendendo dall'attacco di Larvitar e Bahrain poi Phytos sul palo e lotta incerta con Elusive Queen che si impone poi vicinissimi Bahrain, Larvitar e Phytos ripetiamo le immagini con Elusive Queen e Salvatore Basile in sella numero tre dello schieramento lungo la corda ha difeso bene la posizione e sul palo ancora una abbondante incollatura di vantaggio nei confronti di Bahrain e Larvitar vicinissimi per il secondo posto davanti a Phytos quindi al primo posto il tre di Elusive Queen vicinissimi aspettiamo il risponso del giugno d'arrivo tra l'uno e il cinque per il secondo posto grazie 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 grazie